Dispongo pertanto all'attivazione dell'impianto. Grazie a tutti. Il dottor Francesco Veroi, responsabile del coordinamento tributario. Saluto tutti e ringrazio per aver raccolto il nostro invito. Cedo loro subito la parola pregando di contenere le relazioni in complessivi 5 minuti circa al fine di lasciare adeguato tempo eventuali domande alla fase di replica. Quindi possiamo dare la parola al Presidente Spaziani Testa. Prego Presidente. Buongiorno. Grazie molto al Presidente Osnato. Grazie per questa possibilità che ci dà di parlare su questo decreto. Dico subito che di questo provvedimento apprezziamo l'impostazione tesa a tentare almeno di risolvere i tanti problemi che si pongono col passaggio dal sistema super bonus che finora abbiamo conosciuto al futuro che tutti conosciamo e sul quale non mi dilungo, ho visto il poco tempo a disposizione. C'è un enorme rischio sia di contenzioso sia di problemi economici rilevantissimi per le famiglie per questo passaggio. Non si entra qui naturalmente nel merito della vicenda super bonus storicamente perché prescinde il nostro giudizio, il giudizio di ciascuno di noi su questa misura prescinde rispetto a questa situazione contingente. Quindi questo provvedimento prova a fare qualcosa. Io separatamente per le varie norme indico qualche nostra idea e qualche nostro suggerimento. Il comma 1 dell'articolo 1, adesso non elenco tutto, ma il comma 1 dell'articolo 1 è quello, se non è fondamentale e sul quale però si potrebbe ulteriormente intervenire, è quello che salva dagli effetti drammatici che ci sarebbero in caso di richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate ai singoli proprietari in condominio o di case singole rispetto a lavori non conclusi. Quindi la richiesta delle somme per le quali si è sfruttito il super bonus. Quindi una tutela di accertamenti che noi apprezziamo ma per la quale ci permettiamo di segnalare qualche possibilità di correttivo. Quindi la prima cosa che diciamo è, lo torniamo a dire, sapendo che questa ipotesi è stata esclusa, sarebbe stato meglio, ma sarebbe ancora meglio se il Parlamento avesse l'idea e la forza di intervenire, procedere con quella ipotesi che era stata fatta da tanti, cioè quella del cosiddetto sal aggiuntivo, cioè consentire che ci sia la possibilità di considerare totalmente i lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 per risalvare tutti questi lavori dagli accertamenti. quindi non chiudere, utilizzare l'ultimo sal, come dice la norma adesso, che potrebbe lasciare scoperta una parte, ma farne uno apposito. Continuiamo a segnalare questa possibilità. Sia che in questo caso, sia mantenendo la struttura attuale, cioè dell'ultimo sal esistente, noi diciamo si potrebbe tentare di salvare qualche intervento in più, per esempio allargando questa tutela. Noi non crediamo che avrebbe costi per l'erario dal punto di vista tecnico, dalla relazione tecnica che abbiamo letto. Utilizzare, applicare questa norma anche a chi ha utilizzato direttamente la detrazione, quindi non ha, non si è avvalso l'eccezione del credito e sconto in fattura, perché anche questi soggetti hanno subito i ritardi conseguenti alla situazione di causa generale, e farla utilizzare eventualmente anche a chi abbia fatto uso di altri incentivi, a cominciare dal bonus facciate, anch'esso molto colpito dalla situazione di stall. Con riferimento al comma 2, quello che è finalizzato a dare un aiuto a chi ha redditi bassi, con riferimento ai lavori, consente di portare avanti i lavori fino a una parte del 2024, noi diciamo ottima l'intenzione, difficile che produrrà tanti effetti, quindi a maggior ragione è importante il comma 1, quello della salvezza degli accertamenti e rafforzarlo ulteriormente, perché diciamo difficile, perché il reddito di riferimento 15 mila euro per una singola, poi diventa 30 mila lordi per una coppia, eccetera, intanto comprende naturalmente una piccola fascia di una parte solo dei soggetti, ma soprattutto c'è un problema nei condomini, nei condomini ci sono soggetti con redditi di un tipo e redditi di altro tipo e diciamo avvantaggiare giustamente i soggetti di minore capacità reddituale non consente di avere la certezza della conclusione dei lavori, perché poi gli altri condomini, andiamo sul pratico, devono diciamo operare i versamenti, non solo ma i versamenti da come leggiamo la norma e qui ci permettiamo di chiedere anche un chiarimento, devono effettuarne anche coloro che avrebbero, che avranno diritto al contributo e se è giusta la nostra lettura, cioè il versamento deve essere prima effettuato e poi il contributo da determinarsi arriva successivamente, noi chiediamo uno sforzo in più nel tentare di far sì che questo contributo possa arrivare prima del versamento, ci possano essere dei meccanismi per superare il problema dell'anticipazione delle spese. Con riferimento all'articolo 2 non abbiamo osservazioni sul comma 1 che cambia le ipotesi riguardanti gli interventi per la messa in sicurezza, giudichiamo negativamente, io vado per flash naturalmente visto il tempo, ma giudichiamo negativamente la norma che prevede l'obbligo assicurativo di assicurazione contro le calamità internaturale che abbia effettuato interventi da super bonus, intanto perché è scritta in modo non del tutto chiaro per quanto riguarda i contorni della disposizione e poi perché al di là della fattispecie specifica noi notiamo anche in seguito alla legge di bilancio una certa tendenza a piano piano introdurre un obbligo assicurativo che se fosse steso in linea generale sarebbe veramente molto pesante per i proprietari immobili. Ancora per flash e chiudo, articolo 3 dove si parla di barriere architettoniche, c'è una chiusura, una forte limitazione determinata dal rilevato utilizzo disinvolto di questi incentivi importantissimi per il superamento delle barriere architettoniche, giusta l'intenzione di limitare e di contenere fortemente questi abusi. Noi diciamo, proponiamo che laddove si è consentito, si consente ancora di utilizzare questi incentivi per interventi di superamento delle barriere architettoniche, ad esempio ai disabili che abbiano i requisiti previsti dalla legge, noi diciamo si potrebbe estendere questa possibilità, chiaramente in questo caso ci sarebbe un onere, bisogna dirlo chiaramente, ma sarebbe credo un onere ridotto, perlomeno ai cosiddetti grandi anziani, cioè a soggetti che abbiano potenzialmente spesso realmente difficoltà motorie, mi riferisco in questo caso agli interventi di superamento delle barriere architettoniche nelle singole unità immobiliari, perché per quelli in condominio c'è la limitazione generale che prevede adesso l'incentivo solo in caso di effettuazioni di determinati interventi come ascensore ed altri. In grandissima sintesi, anche se ho sforato i 5 minuti, è questo il nostro pensiero su questo provvedimento e quindi per Flash apprezziamo l'intento di superare i tantissimi problemi che si creeranno e che si stanno già creando per il passaggio dal 110 al 70, qualunque cosa si pensi del 110 e qualunque cosa si pensi del 70, perché si prendono degli impegni e poi le somme vanno pagate, crediamo però si possa ancora intervenire per migliorare questo provvedimento e speriamo che il Parlamento possa essere la sede adatta per farlo. Resto a disposizione per i minuti rimanenti per eventuali interlocuzioni. Grazie Presidente anche per il rispetto del tempo che è sempre troppo poco per queste audizioni purtroppo. Credo a qualche collega o al relatore se vogliono intervenire ma mi pare che sia stato ampiamente esaustivo il suo intervento per cui non vedo neanche da remoto nessuna richiesta di intervento. La ringrazio molto e saluto lei e i suoi collaboratori nella prossima occasione. Grazie mille. Grazie Presidente. Grazie Presidente, arrivederci. Grazie a tutti. Sono in collegamento al notario Claudia Alessandrelli, Vice Presidente di Compressioni e il Dottor Carlo Girella, responsabile di relazioni istituzionali Ufficio Studi. Che saluto e ringrazio per la loro presenza per aver raccolto il nostro invito e cedo subito la parola pregando di contenere la loro relazione in complessivi circa 5 minuti al fine di lasciare adeguato tempo alle eventuali domande e alla fase di replica. Buongiorno Dottoressa Alessandrelli, prego le cedo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Un particolare ringraziamento per questo invito che ci consente di dare un contributo per condividere delle considerazioni sul decreto 212-2023 posto alla vostra attenzione. Preliminarmente come con professioni noi esprimiamo un sostanziale apprezzamento per il provvedimento in quanto condividiamo quantomeno gli sforzi. del governo di disciplinare quella che potremmo definire la coda finale del super bonus 110 con particolare riferimento a quei cantieri che hanno fatto registrare specie negli ultimi mesi del 2023 situazioni di rallentamento dei lavori o addirittura di interruzione e sospensione. Noi auspichiamo che sia giunto il momento di rimettere mano ad una ridefinizione e risistemazione di tutta la materia delle agevolazioni e dei bonus edilizi connessi al settore edilizio superata la fase di emergenza che ha visto, come ricordiamo, un legislatore quasi schizofrenico che ha modificato per ben 30 volte nell'arco di 44 mesi la misura del super bonus e degli altri bonus disciplinati dal decreto rilancio. Quindi speriamo di una volta per tutte lasciare alle spalle questo periodo emergenziale per guardare appunto al futuro in una prospettiva, in un arco temporale di medio lungo termine. Entrando nel merito del provvedimento io mi soffermerò sul condividere con voi un paio di considerazioni relative alle soluzioni trovate dal governo e disciplinate all'articolo 1 come 1 e 2 per poi brevemente illustrare una prospettiva futura. E' utile partire dai dati dell'Enea che probabilmente ci aiutano a capire la reale portata della questione, del problema. A fine dicembre 2023 su edifici condominali pari a circa 104.800 si sono maturati investimenti per circa 64 miliardi, 47 milioni ammessi a detrazione 64 miliardi. In realtà risultano effettuati lavori per l'85%, quindi rimangono fuori circa 10 miliardi di opere, dati leggermente migliori per le unifamiliari per le quali si registra un'effettuazione al 95% per 26 miliardi di lavori effettuati. Ora il governo per disciplinare questi fatti specie di cantieri, come ho detto prima rallentati o addirittura interrotti, ha pensato, ha introdotto due soluzioni che si discostano da quelle che erano state veicolate da più parti negli ultimi mesi, in particolar modo nel mese di dicembre era stata proposta una proroga di due o tre mesi, ovvero un SAL inferiore al 30%. La prima soluzione, articolo 1 primo comma, è quella di una sanatoria fiscale, cioè viene introdotta una norma che consente ai soggetti che non hanno ultimato i lavori al 31-12, ma in presenza di uno stato di avanzamento pari almeno al 30%, si consente anche laddove non è stato raggiunto il miglioramento della doppia classe energetica, l'agenzia delle entrate viene stabilito non recupera gli importi relativi alle detrazioni dei lavori effettuati fino a quel momento. Noi condividiamo lo spirito che ha mosso il governo in questa soluzione, nel senso che quantomeno non si riversa un effetto ulteriore negativo sui contribuenti, però esprimiamo una doppia perplessità, sia perché riteniamo che non sia il rimedio più idoneo per risolvere o comunque prevenire contenziosi già sorti fra imprese, professionisti e famiglie, diciamo dall'altro lato. E poi perché il mancato raggiungimento del miglioramento della doppia classe energetica probabilmente tradisce quello che è stato lo spirito e la razza ispiratrice del decreto fin dall'inizio. C'è un aspetto che noi desideriamo richiamare, appunto portare alla vostra attenzione, affinché sia votato adeguatamente, disciplinato, lo sollecitano i professionisti dell'area tecnica e economica che abbiamo all'interno della Confederazione. Noi abbiamo una norma di sanatoria fiscale che dice ok potete interrompere i lavori al 31 dicembre, ma i tempi dell'edilizia non sempre combaciano. Mi riferisco al fatto, mi sia consentito l'esempio, che non ci troviamo di fronte a un interruttore della luce che possiamo decidere di accendere e spegnere arbitrariamente. Nel senso che non si può decidere a un certo punto di interrompere i lavori prescindendo dallo stadio e dal momento in cui ci si trova. Faccio un esempio, un cappotto termico installato per metà su una facciata di un edificio condominiale probabilmente richiederà l'esecuzione di ulteriori opere in parte per evitare degli squilibri termici, dei ponti termici o se si è deciso di effettuare una copertura e dei lavori sulle fondazioni, probabilmente non si potrà arbitrariamente decidere concludo la copertura, non eseguo i lavori sulle fondazioni. Questo per dire che noi ci preoccupiamo e quindi questo è un aspetto che desideriamo segnalare. Evidentemente per quelle opere che comunque dovranno essere ultimate un minimo per non danneggiare i lavori che sono stati effettuati fino a quel momento al 31-12 e quindi noi ci preoccupiamo di capire quale sarà la disciplina di quelle opere qualora non possa ad esse essere applicata la disciplina del super bonus 110 ci chiediamo potranno essere, potrà trovare applicazione la disciplina dei bonus ordinari. Questo è un aspetto sicuramente da valutare e normare in sede di conversione. Altro input, secondo comma dell'articolo 2, apprezziamo lo sforzo del governo di aiutare le fasce più deboli e quindi coloro e quali hanno redditi inferiori a 15 mila euro secondo il quoziente familiare intervenendo con un contributo però per cercare di coprire quella differenza di detrazione tra il 110 e il 90 e il 70%. Però esprimiamo qualche perplessità perché il rimedio, il parametro del quoziente familiare che viene appunto introdotto ed era stato già introdotto dal DL aiuti Quater nel novembre del 2022 riteniamo che possa probabilmente avvantaggiare poche famiglie e penalizzarne molte altre perché è un parametro che avvantaggia le famiglie numerose. Noi sappiamo in Italia non sono tante perché il quoziente aumenta diciamo man mano che aumenta il numero dei componenti del nucleo familiare. Quindi pur apprezzando lo sforzo è giusto aiutare le fasce più deboli dobbiamo capire se il rimedio del quoziente familiare sia la giusta soluzione. Ultimo input sull'articolo 2 per le aree sismiche noi siamo preoccupati dal modo in cui è stata formulata la norma perché condividiamo che il legislatore abbia voluto mettere un limite a quelle che sono le opzioni di sconto in fattura e cessione credito per gli interventi nelle aree sismiche di fascia 1, 2, 3 però riteniamo, e questo deve essere espresso a chiare lettere che debba rimanere invariata la disciplina degli interventi su quegli edifici che sono stati danneggiati per il sisma a partire dal primo aprile 2009 calamità naturali a partire da metà settembre 2022. Lo ha detto a chiare lettere il commissario straordinario sisma 2016 Castelli è stata diramata la nota sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri però riteniamo che dirlo espressamente, cioè fare salva la previsione delle opere dei lavori in quelle zone colpite dal sisma sia opportuno. Ultimissima, perché il tempo appunto è scaduto, un'ultimissima considerazione con la prospettiva futura. Noi invitiamo il Governo e il Parlamento a mettere mani ad una risistemazione, ridefinizione di questa materia dei bonus e delle agevolazioni connesse al settore dell'edilizia. probabilmente oggi i bonus sono tanti, sono troppi, sono disciplinati da norme complicate fra loro, anche piuttosto contraddittorie e diciamo allora poniamo mano a questa materia magari riducendo le misure a due, tre, si può parlare di un credito d'imposta, si può rivedere il meccanismo degli incentivi magari legandoli alla classe energetica. partendo da un presupposto, la partecipazione alle spese da parte del contribuente è un elemento assolutamente imprescindibile perché abbiamo visto quello che ha portato il mancato controllo e la mancata verifica da parte dei contribuenti come nell'ambito del bonus facciate. Sicuramente la ridefinizione e la risistemazione della materia deve partire dalla considerazione di quelle esternalità positive, cioè di quegli effetti, di quegli impatti positivi che il super bonus ha avuto a livello economico, a livello finanziario, a livello sociale, probabilmente ci si è troppo concentrati sull'impatto sulla spesa, sul debito pubblico e un po' meno su queste esternalità positive che invece devono essere considerate a livello di miglioramento di efficientamento energetico, a livello anche di rinnovamento del patrimonio edilizio. Qui non dimentichiamo che in Italia noi ci troviamo di fronte ad edifici che per il 64% sono stati edificati prima del 77 e per il restante 20 tra il 77 e il 90 quando non esistevano ancora dei meccanismi relativi all'efficientamento energetico e al rafforzamento da un punto di vista strutturale. Quindi benvenga mettere mano alla materia, poi c'è l'altra esternalità dovuta all'aumento del PIL nel settore edilizio, nei settori connessi, l'aumento del gettito delle imposte, l'aumento occupazionale, tutti effetti positivi che non dobbiamo disperdere. Quindi d'ora in avanti cerchiamo di rimettere mano a questa materia in vista di un obiettivo che abbiamo, di una scadenza che è quella della direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici che ci pone due scadenze, 2030 e 2050. Al 2050 gli edifici dovranno essere a emissione zero, ci dovrà essere la totale decarbonizzazione, quindi è giusto farci trovare pronti e preparati con un pacchetto di misure e di incentivi in modo che questa direttiva anche in Italia possa essere adeguatamente recepita. Ricordiamo che è un ultimo dato, in Italia gli immobili risidenziali energivori, cioè in classe G sono un milione e otto, sul totale di 12 milioni, quindi su quegli edifici si dovrà intervenire per arrivare a una classe pari alla F, ovvero a quella della lettera E e quindi per questo è stato già stimato un costo di circa 35 miliardi annui, quindi superiore a quello del super bonus, tenendo conto, e qui concludo, che il super bonus finora è riguardato 460 mila edifici in tutto, qui dobbiamo agire su un milione e ottocentomila energivori, quindi ben altre cifre. Quindi cerchiamo di farci trovare preparati in questo noi come professionisti, in particolare dell'area tecnica e dell'area economica, naturalmente che diamo la nostra disponibilità per ridefinire tutta la materia, in modo che si possa anche diciamo attuare quegli obiettivi di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico, tanto voluti anche dall'Europa e dalla direttiva. Io vi ringrazio per l'attenzione, ho cercato di stare nei minuti, grazie. Grazie, grazie mille dottoressa. Chiedo ai colleghi se hanno necessità di intervenire. Il onorevole D'Alfonso, prego onorevole. Nel 92 la qualifica di onorevole veniva messa da parte, io mi ricordo l'onorevole Franco Marini offrendomi un caffè gradì molto che il barista lo indicasse come dottor Marini e non onorevole Marini perché era l'inizio di quella tradizione dei Vaffa di 3131. L'onorabilità. E poi anche Funari che è stato l'antesignano di questa demolizione collettiva della dignità pubblica. Faccio una domanda che si aiuta con una considerazione. In ragione del fatto che sto leggendo molto in materia giudiziaria non ho cristallizzato quello che ha detto la persona competente che ha parlato, se mi aiuta il Presidente la cito con il cognome. Come si chiama la persona che ha parlato? La dottoressa Alessandrelli mi ha convinto in un passaggio che sembra generico ma è un passaggio salutare e capace di medicazione nei confronti del dibattito di questa Commissione e dell'Aula e anche della stampa. Serve una riconsiderazione organica della materia, dei bonus e di ciò che grandemente vogliono bonificare attraverso misure di facilitazione finanziaria e amministrativa e procedurale all'indirizzo del patrimonio abitativo italiano. Uno perché è in arrivo la mandibola della normazione europea riguardante le case green. Due perché il patrimonio abitativo italiano soffre, lo dico al Presidente che viene da Milano che è una città che sull'edificato ha costruito grande parte della sua economia, il patrimonio abitativo italiano non solo nel sud profondo, anche nel centro dell'Italia risente della curvatura della legge ponte. Io vengo dall'Italia del Novecento e so bene quanto pesi la legge ponte. Non credo che i nuovi eletti sappiano che cos'è la legge ponte, è una legge che stabiliva attraverso una forma progressiva di condono, si cristallizza ciò che c'è e ciò che c'è per legge sta a posto. È come se noi oggi deliberassimo che Gesù è morto a 88 anni, lo facciamo per legge, ci convochiamo, facciamo l'inchiostro giusto, lo pubblichiamo sulla gazzetta ufficiale e quella legge ha cristallizzato che Cristo, Gesù, è morto a 88 anni. Se il patrimonio abitativo italiano privato in molte parti dello stivale è claudicante solo alla presenza di una spinta di Sant'Emidio, noi dobbiamo mettere in campo qualche iniziativa. Magari non giocherellona, tipo quella che abbiamo conosciuto in questi anni, anche a causa di un bombardamento emendativo che è partorito molto nell'edilizia di questo palazzo, ogni assessore parlamentare nazionale ci metteva i suoi centimetri quadrati, tanto che Ruffini ad una mia domanda, saresti capace di montare un 110 indiscutibile? Lui mi disse pubblicamente assolutamente no, perché è una gincana di adempimenti. Ma questo non fa buttare a mare l'impianto di quella normazione. Allora chiedo alla dottoressa, avete voi una stima di qual è l'anzianità del patrimonio abitativo italiano? Nella verità, riaccatastare il patrimonio abitativo italiano aiuterebbe anche a capire di cosa si tratta il patrimonio abitativo italiano. Perché noi dovremmo fare una graduatoria, io vengo da una regione sismicamente più volte discussa e a ogni botta di sisma nasce un commissario che consuma 8-9 miliardi di euro. Anche questo è un tema di quanto ci costa quando il fatto demolitivo accade per ragioni di natura. Allora si è sbagliato l'altra volta a non mettere una anzianità all'edilizia da rendere bersaglio di queste procedure. Di non mettere una redditualità di provenienza. È ingiusto che Benetton utilizzi il super bonus. È ingiusto. È profondamente ingiusto. Così come è ingiusto che le spese tecniche costano il 22%. Io vengo da un rapporto amoroso col Ministero dei Lavori Pubblici, un'opera pubblica o anche privata che si è eseguita con correttezza produce un utile, lo dice il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, del 10%. Come fa a costare un maneggiamento finanziario di cui mi potrebbe aiutare il collega Testa o un maneggiamento tecnico due volte più della realizzazione edile. Quindi è saltata un po' una impostazione di realismo che noi dovremmo ricondurre. Quindi concordo con la dottoressa Alessandrelli che va fatto un lavoro non ideologico, non emotivo, non spintonato alle emergenze, ma il patrimonio edilizio italiano va trattato. Altrimenti riempiremo l'Italia di Legnini in quanto commissario, non in quanto ex vicepresidente del CSM, in quanto commissario. E io so che i commissari loro malgrado spendono tanto, loro malgrado, non con la volontà. La domanda che faccio alla dottoressa, io mi sono distratto perché sto leggendo questo libro che da questa notte mi ha catturato, quasi eroticamente, pregiudizio di Stato, quell'Italia sovranità limitata, il caso Oliverio. Questo mi ha letteralmente catturato, per cui non mi sono ricordato il nome della dottoressa e neanche la realtà sociale di appartenenza. Le chiedo comprensione, però valido molto il notaio, valido molto il notaio Alessandrelli, la domanda centrale che ha costruito il suo intervento quando ha detto dobbiamo avere un approccio di lettura organico e io aggiungo non ideologico, perché una misura che semplifichi serve perché non è vero che ogni Mario Rossi possa procedere da sé a mettere in sicurezza e in funzionamento il proprio patrimonio abitativo che in molte parti d'Italia è nato con la legge Ponte, che era una legge giubileo che disse tutto ciò che c'è sta a posto. Grazie. Prego l'onorevole Fenu. Grazie Presidente, anche io mi devo scusare che mi sono un attimo distratto, ma perché era interessante l'intervento della dottoressa Alessandrini e quindi abbiamo tratto spunto per discutere qua con i colleghi. Giustamente credo che abbia suggerito di mettere ordine alla materia e su questo siamo tutti d'accordo, gli atteggiamenti sono stati estremi da parte della parte politica probabilmente, ma c'era una situazione di emergenza e di necessità, da parte ministeriale con questo contrasto furioso a un meccanismo che comunque era nuovo nel nostro ordinamento. Faccio una premessa e poi faccio la domanda. Era già previsto, è previsto che la percentuale di detrazione scenda al 70% da quest'anno, da quando è nato il superbonus, il bonus edilizi e soprattutto il superbonus era già previsto un decalage fino al 65% addirittura ed è una percentuale assolutamente condivisibile anche perché da quelle che sono state le stime di Censis, Nomisma e diversi istituti autorevoli ma da quello anche che si dice che circoli al Ministero dell'Economia, quindi una stima sulle retrazioni attorno al 60% di quello che è l'investimento da parte dello Stato con una percentuale di detrazione del 60-65% nel medio e lungo termine realisticamente si può pensare a una misura stabile di efficientamento energetico praticamente a costo zero per lo Stato, quindi questo è da prendere in considerazione. Con quello che creano misure di questo tipo, non solo, lo sappiamo, nell'economia, nell'efficientamento delle abitazioni eccetera eccetera, ma quello che ha creato nella testa degli italiani. Voi andate a chiedere a chi è riuscito a fare il superbonus, quindi a efficientare la propria abitazione, se è disposto in futuro a ritornare indietro, installare un impianto a gas, un impianto a gasolio, se lui sarebbe disposto in futuro ad attingere a quelle che sono le energie fossili. Io credo proprio di no e questa è la rivoluzione più grande che ha portato in Italia a una misura di questo tipo. Ha cambiato in questo senso la testa degli italiani, ci ha proiettato verso quello che l'utilizzo delle energie rinnovabili e l'autoproduzione. Questo secondo me è il merito più grande. Fate tutte queste premesse, assolutamente condivido, saremo anche in qualche modo costretti a farlo, nella necessità di rendere stabili i bonus per l'efficientamento energetico. Però ovviamente questa stabilità deve comportare anche l'utilizzo di meccanismi che hanno funzionato, perché le spese sono tali per cui le famiglie, i condomini normali, che hanno stipendi normali, che hanno redditi normali, non possono anticipare e poi attendere di recuperare in dichiarazione di redditi negli anni. Quindi mettere ordine chiedo se si pensa anche con la continuazione dell'utilizzo dello strumento dell'accessione del credito dello sconto in fattura. Grazie. Onorevole del Barba, prego. Grazie Presidente. Ringrazio anche il notario Alessandrelli per il suo intervento, che ha stimolato la discussione dei commissari, perché effettivamente con questo provvedimento si ha un po' la sensazione di essere agli sgoccioli rispetto a una serie di interventi sul super bonus. Quindi giusto che ci sia una riflessione, un bilancio che premetto, faccio ora per tutte le audizioni, perché sicuramente ci staranno ascoltando, così la domanda non va solo alla dottoressa Alessandrelli, ma va anche di Conf Professioni, ma va anche a tutti gli auditi che seguiranno. Perché dobbiamo dirci la verità, questa misura, come tutte le misure che migliorano la qualità del patrimonio edilizio, sia dal punto di vista sismico che dal punto di vista energetico, è una misura che tra le storture che sono state più volte evidenziate, che evidentemente lascia sul nostro territorio degli effetti positivi. Però lo fa ad un prezzo che non è solo quello del costo lievitato per le casse pubbliche, un prezzo decisamente esagerato. Da questo punto di vista, sia io personalmente che il mio partito, abbiamo da subito segnalato quali fossero i pericoli contenuti in questa misura, le incongruenze, in particolar modo il fatto che il combinato disposto di 110 più cessione del credito andava a togliere qualsiasi tipo di contrasto di interessi, innescando quindi una spirale di lievitazione dei costi e anche di imperizia rispetto alla priorità degli interventi. Tutto questo oltretutto chiamando in causa rispetto ai precedenti interventi di risparmio energetico un target di proprietari molte volte impreparato, improvvisato e preda di professionisti, tante volte anche essi impreparati e improvvisati. Abbiamo da subito segnalato questo pericolo, abbiamo sempre quindi lavorato come forza politica per disinnescare queste insidie che, dicevamo, avrebbero portato cittadini e imprese a trovarsi poi nei guai, che è la situazione in cui inevitabilmente ci troviamo oggi. Questo, peraltro, mi permette di dire che non sarà l'ultimo intervento. Dovremo fare sicuramente degli interventi di interpretazione autentica, laddove inizieranno da parte dell'Agenzia delle Entrate tutte le verifiche, dovremo fare delle correzioni normative perché questi guai andranno a palesarsi, a emergere via più, questi controlli proseguiranno. Ebbene, vengo allora anche io al tema di come sistematizzare la materia per il futuro. posto che, appunto, bisogna evitare che non ci sia un contrasto di interessi e posto che l'obiettivo del risparmio energetico, come quello della sicurezza sismica, rimarranno obiettivi importanti, se non addirittura prioritari, io vorrei chiedere alla dottoressa Alessandrelli, così come è stato chiesto in merito alla misura dell'accessione del credito, se non sia a questo punto opportuno, nell'interesse di tutti, inserire in questa che è stata una trattativa selvaggia tra domanda e offerta, dei soggetti qualificati che siano in grado di ottemperare alle lacune che ho evidenziato, evidenziato quali le esco, cioè dei soggetti che siano in grado di fare le valutazioni finanziarie ed economiche per conto del committente e nel contempo di andare a selezionare quelle operazioni più vantaggiose, quindi di cui il Paese ha maggiormente bisogno. Grazie. Grazie Onorevole Fenu e Onorevole del Barba, chiedo scusa, Onorevole Fenu è entrato prima, e do la parola alla dottoressa Alessandrelli per rispondere o chiusare gli interventi che hanno fatto i colleghi. Prego. Sì, grazie. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, cioè relativa al fatto se noi abbiamo una stima, quindi un quadro, uno scenario, un po' degli immobili, anche in base alla loro anzianità, sì, ci risulta che il 64% circa degli immobili residenziali in Italia sia stato costruito prima del 77, che il 20% sia stato edificato fra il 77 e il 90. Quindi epoche in cui, l'Onorevole ha richiamato appunto la legge Ponte, in cui non venivano assolutamente rispettati, diciamo, dei criteri e degli accorgimenti di risparmio, efficientamento energetico, rafforzamento strutturale. Questi sono i numeri con cui noi dobbiamo fare i conti. in particolar modo su 12 milioni di immobili residenziali che abbiamo in Italia, un milione e otto sono energivori, sono in classe G, nove milioni in classe E, F e G, un milione e otto in classe G. Quindi sono quelli che dovranno essere maggiormente attenzionati. Naturalmente noi continueremo nella nostra opera di analisi e di studio, diciamo, di questi dati, di questi numeri, però riteniamo che appunto in vista del recepimento della direttiva europea, sicuramente questi, ci si dovrà, diciamo, rivolgere in particolar modo a questi edifici, tenendo conto, come ho detto prima, che il super bonus ha coperto 460 mila edifici, quindi abbiamo un milione e otto. Infatti su questo, e qui, diciamo, anticipo anche la risposta alle altre due domande, sicuramente un insegnamento noi l'abbiamo tratto, probabilmente è stata una misura troppo elevata, cioè il 110, rivolta a troppi pochi edifici. Chiaramente un conto è parlare di una detrazione del 110, un conto di una detrazione ovviamente del 70 e dell'80, e scusate la banale osservazione, ma è ovvio che a quel punto si può rivolgere a un numero maggiore e superiore di edifici. Quindi sicuramente massima attenzione in vista del recepimento della direttiva europea su questi edifici vecchi, su questi edifici anziani. Purtroppo e ben venga anche la riforma, diciamo, la modifica della direttiva europea, perché qui ciascuno Stato naturalmente dovrà fare i conti con un certo buonsenso col patrimonio che ha a disposizione. Quindi anche qui noi invitiamo a normare in maniera, a parte chiara, semplice e lineare, però guidati fondamentalmente da buonsenso nel momento in cui si metterà a mano a questi edifici. Per quanto riguarda le altre due domande, sicuramente noi vogliamo cogliere quello che di positivo c'è stato. Ci sono stati degli impatti, delle esternalità positive, va bene, al di là degli effetti distorti. Allora sicuramente partiamo da questo impatto positivo a livello energetico, a livello economico, a livello sociale, per scrivere nuovamente, diciamo, la materia dei bonus e delle agevolazioni, però con l'input di ridurre le tipologie di bonus e di detrazioni. Oggi sono tante, sono troppe. Dobbiamo ridurre a due, tre misure fondamentalmente. Sicuramente continuare, ecco, un elemento fondamentale, la compartecipazione alle spese, che abbiamo detto, consente un controllo, una verifica da parte dei contribuenti, cosa che nel bonus facciate non è avvenuto, e sicuramente una, quindi con partecipazione anche parziale alle spese, norme chiare, norme semplici, diciamo, e un arco temporale lungo, almeno di 10-15 anni. Sappiamo tutti che questa era una norma emergenziale, una norma shock, diciamo, dettata nel 2020, quando si doveva uscire dalla crisi pandemica, un po' quello che avvenne nel 2008, ma è giusto che queste misure rimangano straordinarie, quindi limitate, eccezionali, limitate nel tempo. Quindi arco temporale lungo, in modo che la detrazione, appunto, possa sfruttare e utilizzare questo arco temporale, cessione del credito e sconto in fattura, che in realtà sono stati, forse, il vero volano, diciamo, di questa misura, ma vanno normate e disciplinate con estrema prudenza, proprio perché abbiamo visto gli effetti distorti cui hanno dato luogo, quindi sicuramente possono trovare accoglimento, ma con una normativa estremamente prudente e rivolta naturalmente a determinati soggetti, cioè sicuramente si deve rideterminare l'ambito oggettivo e soggettivo di queste agevolazioni, perché ben venga che chiaramente siano più aiutate le persone meno abbienti con redditi inferiori e quindi di contro invece limitare la misura lì dove non abbiamo queste situazioni. Spero, io vi ringrazio per le domande e spero di aver risposto, grazie. Grazie, dottoressa, sei stata molto esauriente, ha animato il dibattito, quindi la ringraziamo, la salutiamo per una prossima occasione. Grazie mille, arrivederci. Buongiorno, grazie, buongiorno. Grazie. 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 Grazie a tutti. la Commissione Fiscalità dell'Istituto Nazionale Tributeristiche. Saluto e ringrazio per aver raccolto il nostro invito. Cedo loro subito la parola, pregandoli contenere la loro relazione in complessivi cinque minuti circa, al fine di lasciare ad adeguato tempo alle eventuali domande e alla fase di replica. Buongiorno, prego, Presidente Alemanno. Buongiorno, buongiorno, Presidente Tosnato. Mi sento bene? Sì, sì, benissimo. Perfetto. Intanto grazie per l'invito in audizione. Saluto anche gli onorevoli commissari presenti. Brevissimamente, prima di passare la parola al Consigliere Nazionale Cuomo, che introdurrà delle situazioni tecniche del decreto oggetto di audizione, io auspico, al di là di quello che ho sentito appunto dei commissari, in particolare dell'onorevole Del Barba, che ha ragione, probabilmente questo non sarà l'ultimo decreto, perché occorreranno dei chiarimenti, dei collettivi, ma spero che non si debba più parlare di incentivi che vanno a soddisfare la ristrutturazione necessaria degli immobili privati, ma a totale carico dello Stato. Perché evidentemente questa è una cosa che anche con tutta la necessità della sicurezza, dell'ambiente, del decoro, farlo su un immobile privato e senza contrasto di interessi, ovviamente ha comportato quelle che sono le problematiche sotto gli occhi di tutti. Giovento però, siamo anche noi assolutamente d'accordo, l'abbiamo ribadito più volte anche in altre audizioni sui crediti d'imposta di carattere immobiliare, il fatto che le agevolazioni devono essere strutturali e non si deve ogni anno pregare la bontà del Parlamento, del Governo, perché ci sia una proroga, perché gli investimenti sugli immobili devono avere una progettualità di periodo negli anni. E' successo col 110%, ma anche col bonus facciate purtroppo, che un'offerta smodata, ha trovato una domanda smodata, ha trovato un'offerta impreparata e sono successe le problematiche di malaffare anche che sono seguite. Grande attenzione, però maggiore ancora di quella che già il decreto porta per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, ne tratterà appunto il Consigliere Cuomo, perché si tratta ovviamente di un problema non solo finanziario, ma di civiltà. Quindi su quello andare maggiormente a elasticizzare la possibilità dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Dicevo, strutturali le agevolazioni, ma che non devono superare il 50%, perché è il perfetto punto in cui l'agevolazione viene coperta dalle maggiori imposte. E magari per, diciamo così, sopperire al problema dei soggetti incapienti far sì che si possa chiedere a rimborso la rata del decennio di agevolazione o il residuo della rata, cosa che oggi non è possibile fare. Gli incapienti avrebbero la possibilità di chiedere a rimborso il decreto imposta non gestito in compensazione con l'IRTEF. Lascio pertanto, ringraziando ancora il Presidente del Commissario, la parola al Consigliere Cuomo per gli interventi tecnici. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Prego, Dottor Cuomo. Intanto, buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità di poter esprimere il nostro pensiero riguardo a questo decreto. e niente, entrando subito nel merito, noi riteniamo che il testo del Comma 2 dell'articolo 1 possa essere particolarmente migliorato laddove faccio fare riferimento appunto a un reddito di 15 mila euro a fronte delle spese sostenute. sul punto la nostra idea è quella di meglio definire richiamo a questi 15 mila euro stabilendo che per le persone fisiche questo importo o quello che magari riterrà diciamo la commissione più opportuno venga in qualche modo riferito come dicevo non a reddito ma a un valore in sé strumento questo che coglie meglio l'effettiva capacità contributiva del contribuente cosa che il reddito da solo appunto non può misurare pensando anche a che può essere influenzato da futuri contingenti o personali di altro tipo faccio un esempio che percepisce un reddito estero che per effetto della convenzione internazionale col paese estero del riferimento non viene dichiarata in Italia quindi ci troviamo a sostenere aiutare un soggetto che effettivamente percepisce un reddito anche magari anche importante però in un paese straniero che non viene però dichiarata in Italia e qui quindi verrebbe in qualche modo mal distribuita diciamo l'entità dell'aiuto a soggetti che forse non ne hanno bisogno rispetto ad altri e proprio ritornando sempre su questo punto si pensi per esempio al fatto che se si vuole per effettivamente aiutare i soggetti con le disponibilità finanziarie proponiamo che questo contributo possa essere riconosciuto anche sotto forma di credito d'imposta però scelibile direttamente all'impresa che ha effettuato i lavori a copertura della quota appunto che il contribuente diciamo che non ha appunto la propria disponibilità non è in grado di pagare direttamente all'impresa questa operazione potrebbe essere valida anche rispetto a dei lavori condominiali magari in questo caso può incedere che questo credito possa a sua volta essere ceduto dal condominio all'impresa che ha realizzato le opere questo stesso problema secondo noi si rileva anche nel successivo articolo 3 riferito alle varie architettoniche anche qui si fa riferimento al reddito che per i motivi di cui sopra secondo noi non coglie al pieno i soggetti che effettivamente lo spirito della norma sembra voglia intendere appunto aiutare chi effettivamente non ha la disponibilità finanziaria per poter essere poter accedere a questo beneficio riteniamo altresì che l'esclusione del riferimento reddituale o del valore se come noi proponiamo possa essere concessa anche nel caso l'immobile sia abituato a abitazione principale anche di soggetti terzi pensi all'affittuario di quell'immobile che abbia nel proprio numero familiare soggetti con disabilità secondo me con queste correzioni si può cogliere meglio lo spirito l'obiettivo della norma che può essere d'aiuto a chi ha effettivamente bisogno di un sostegno rinanziario concludo velocemente l'intervento con osservazione di generale sempre sul tema delle barriere architettoniche noi riteniamo che questo aiuto debba essere fornito dallo Stato prescindendo dal riferimento ad abitazione principale secondaria o redditi o valori se o l'accertamento delle condizioni di disabilità considerando che il nostro paese ha un'età media della popolazione molto elevato che come posso dire di fatto una norma di questo genere senza queste restrizioni potrebbe in qualche modo facilitare anticipare l'estituzione di opere a persone in favore di persone che effettivamente magari non ne hanno bisogno e oggi ma ne avranno già prevedenti a un futuro il tema diciamo il fatto dell'inalzamento di opere della popolazione è stato anche certificato dall'Istat in convegno che è stato fatto per il senso della Camera quindi è un'informazione che insomma si è già ben nota anche ai componenti della Camera e della Commissione grazie 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 dottor Cuomo grazie anche al Presidente Arimano se ci sono colleghi che vogliono intervenire anche da remoto non mi pare credo che la vostra relazione sia stata assolutamente esauriente per cui vi ringrazio e vi saluto per una prossima occasione grazie mille a presto grazie grazie a tutti grazie a tutti buongiorno buongiorno passiamo ora all'audizione di rappresentanti di Federesco avverto in via preliminare che salvo obiezioni da parte dei nostri ospiti la pubblicità dei lavori dell'assoluto odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Diputati dispongo pertanto l'attivazione dell'impianto è in collegamento Claudio Ferrari presidente di Federesco che saluto e ringrazio per aver raccolto il nostro invito gli cedo subito la parola pregandoli contenere la sua 5 minuti circa al fine di lasciare adeguato tempo a eventuali domande alla fase di replica buongiorno presidente Ferrari a lei la parola buongiorno presidente del Nato intanto vi ringraziamo di averci invitato però vorremmo partire da una nota triste che poi non vorremmo che si trasferisse su tante situazioni avete letto tutti che circa una settimana fa una signora disperata si è buttata dal nonno piano del suo palazzo con la bambina in collo e la bambina purtroppo è morta e ha dichiarato che questa situazione questa situazione di grande frustrazione per la signora e soprattutto per la bambina che è giovane bambina morta immediatamente era provocata dal super bonus non vorrei che questa situazione si ripercatesse in altri momenti e questo perché sarebbe una responsabilità scusatemi ma di tutti voi perché se siamo arrivati al punto in cui c'è gente che è costretta a buttarsi dalle finestre perché è disperata per superare i soldi del super bonus penso che questa sia una riflessione che va fatta da tutte le forze politiche perché il tema del super bonus non è stata una volontà di tizio o di un partito o di un altro è stata una volontà dello Stato è una legge dello Stato e non penso che sia corretto che i rappresentanti dello Stato e i rappresentanti dei cittadini si nascondano dietro questo aspetto quindi il primo punto è questo bisogna evitare che altra gente si ammazzi e per evitare questo bisogna tornare a quello che si è detto centinaia di volte che le leggi non possono essere fatte e cambiate continuamente e su questo punto ritengo che non ci sia assolutamente nessun dubbio che la responsabilità non sia e sia esclusivamente del governo e dei nostri rappresentanti quindi questo è un richiamo forte ad evitare che nuove situazioni si riprendi per quanto riguarda nel merito il decreto legge e il decreto legge vorrei intanto evitare di fare confusioni su questo tema perché forse fare decreti continuamente regiferare continuamente non crea certo una situazione di chiarezza anzi crea solo una situazione di confusione quindi bisognerebbe anche fermarsi e decidere una volta per tutti che il super bonus deve essere risolto i metodi come fare questi sono strumenti vostri perché siete voi che avete questo potere non io purtroppo noi possiamo solo dare dei consigli e sono i consigli appunto del buon padre di famiglia che vorrebbe evitare situazioni disperate entrando poi nel merito vi abbiamo lasciato una presentazione nostra molto breve e con allegati due documenti i temi principali che abbiamo affrontato per cercare di alleggerire questa situazione intanto riguardano per esempio la gestione delle onlus che all'improvviso con un decreto con una circolare addirittura dell'agenzia delle entrate in data 8 gennaio hanno completamente modificato la possibilità per le onlus di gestire il 110 anche questa è un'altra attività che non può essere un'altra situazione che non può essere così alla leggera accettata c'è chi le legifera c'è chi fa le leggi chi è che chi le deve applicare e poi in più abbiamo un ente terzo che modifica quello che è stato deciso ritengo che anche questo sistema non sia assolutamente accettabile quindi c'è da rimettere a posto come nell'allegato rimettere a posto noi chiederemmo che venisse messo a posto per salvaguardare la marea di RSA e di enti del terzo settore di onlus del terzo settore che sono escluse completamente dalla gestione del 110 poi vi sono degli altri riferimenti abbastanza tutti chiariti che riguardano appunto il discorso dell'articolo 3 sulle come si chiama gli interventi soggetti alla disabilità anche questi dovrebbero essere trasferiti su tutte le attività connesse alla gestione delle strutture collegate alla disabilità poi noi vorremmo tornare sempre sul discorso di garantire la possibilità di scontare questi crediti perché ormai si è creato un mercato di sciacalli purtroppo e di persone non certamente molto perbene che stanno gestendo la necessità di questi poveri operatori i nostri operatori ma anche altre centinaia migliaia di aziende in maniera quasi da ricatti quindi ci sono arrivati ormai a pagare il 60% dei crediti e questo assolutamente creerà ancora ulteriori tensioni volevo però tornare sul futuro perché sul passato qui ci vogliono interventi radicali sul futuro come già detto in altre audizioni noi riteniamo che sia assolutamente indispensabile intervenire sulla sulla gestione come previsto dalla red 3 delle attività connesse all'efficientamento energetico degli stabili con il meccanismo dell'esco quindi creare un albo professionale di esco che siano tutte aziende oltre che già certificate ma anche garantite dallo Stato creare una situazione di tranquillità anche dal punto di vista finanziario creare un fondo di garanzia per garantire le banche sugli interventi gestiti dalle appunto esco questi sono un po' i temi sui quali noi vorremmo che voi signori i nostri rappresentanti vi soffermasse un altro aspetto che abbiamo inserito nella nostra presentazione riguarda lo studio che è stato realizzato dal professor Pezzini nostro consulente e membro dell'accese alla comunità europea che illustra in dettaglio tutte le attività connesse alla direttiva RED3 ma soprattutto ai fondi disponibili sulla EPBD4 l'Energy Performance Building del numero quarto su lì è definito in maniera molto clara quale dovrebbero essere le attività che uno Stato che rivesta questo ruolo deve realizzare deve portare avanti per la realizzazione di interventi di efficienza energetica nel settore dell'edilizia io ho finito ditemi se ci sono domande grazie presidente Ferrari chiedo ai colleghi se ci sono domande forse l'onoreo FENU prego l'onoreo FENU grazie presidente Siria anche io ringrazio il presidente Ferrari chiedo ma immagino che l'abbiamo già fatto se si possono avere delle proposte emendative se hanno già lavorato proposte emendative in modo da poterle valutare perché anche io penso che sia importante il ruolo dell'ESCO per rendere stabili per rendere stabili insomma le misure agevolative non voglio più chiamarle bonus perché è stato utilizzato come termine dispregiativo mentre hanno avuto in tanti anni di Repubblica un grande merito i bonus però ultimamente non so per quale motivo quindi chiedo se ci sono proposte emendative sulla prima considerazione effettivamente tutta la classe politica si deve sentire in qualche modo responsabile di quello che sta succedendo perché imprese cittadine hanno fatto affidamento sulla su una norma dello Stato quindi si sono comportati di conseguenza io non mi sto fermando anche in commissione dal presentare continuamente anche delle interrogazioni delle richieste di dati di documenti perché credo che avere un quadro completo di tutto sia il modo migliore anche per poter poi prevedere una certa stabilità per questo tipo di misure allo Stato attuale notizia di ieri Banca Italia ci ha detto che nel 2023 gli incassi di imposte quindi le entrate tributarie sono ulteriormente aumentate i 33 miliardi nel 2023 98 miliardi nel 2021 e nel 2022 non sono tutti ovviamente riconducibili ai bonus edilizi andrebbe stabilito per quanto sono riconducibili ai bonus edilizi perché allo Stato attuale in ogni caso lo Stato ci sta guadagnando e come perché quello che è stato utilizzato abbiamo chiesto qua in Commissione Finanze in F24 sul super bonus ad esempio è stato di soli 15 miliardi da quando è nato a quanto ammontano i maggiori incassi legati al super bonus sicuramente più di 15 miliardi visti i 130 140 miliardi di maggiori incassi in tre anni quindi lo Stato per adesso sta guadagnando e il rischio è che ci stia guadagnando proprio sulla pelle di chi non riesce a portare avanti i lavori a non utilizzare le detrazioni a cedere i crediti perché ogni credito non ceduto ogni detrazione non utilizzata è un importo risparmiato per lo Stato quindi anche questo deve essere un elemento di riflessione grazie grazie mille onorevole fenu non ci sono altri interventi non so se vuole chiusare il presidente Ferrari in questo intervento prego assolutamente mi trova d'accordo ciò che ha detto l'onorevole fenu il tema è sociale ed è soprattutto collettivo non si può fare una legge chiunque l'abbia fatta firmata col sigillo dello Stato e trovarsi dopo anni continuamente con cambiamenti con modifiche con pastoie che rendono impossibile la gestione bisogna sbattere in galera senza tanti giri di parole chi è che fa cazzate scusate il termine non so se è dato l'aula ma comunque il concetto ci va bisogna sbattere in galera chi è che si comporta in maniera scorretta però non si può penalizzare migliaia di persone semplicemente per motivi che tragicamente sono di cassa oltretutto ripeto a fronte della comunità europea che sta stanziando miliardi per l'Italia pare che siano più di 12 miliardi che arriveranno proprio all'interno del green building dell'energy performance building quindi ci sono i soldi bisogna spenderli bene ma soprattutto utilizzando sistemi quali l'attività delle ESCO che non hanno assolutamente bisogno di risorse dirette se non quelle che sono norme precise cosa che fino ad oggi non c'è stata ma speriamo che prima o poi diventi operativa io ho finito se ci sono domande sono a disposizione e con ultima cosa è nostra intenzione convocare il tavolo di tutte le forze politiche che vorranno partecipare proprio per mettere a terra e quindi gli emendamenti che accennava l'onorego le FENU rientrerebbero in questa ottica proprio per coinvolgere tutte le forze politiche a prendersi le loro responsabilità sul futuro ormai il passato quello che è stato va risolto in maniera diciamo brutale tirando fuori i soldi e sistemando tutto questo casino che è venuto fuori sul futuro però si può lavorare senza costi per lo Stato col meccanismo dell'Energy Service Company e noi siamo più che disponibili a lavorare con tutti coloro che ci daranno la disponibilità su questo percorso di diciamo non innovazione perché le ESCO sono degli anni 70 che operano in maniera forte e chiara grazie grazie dottor Ferrari e diceva appunto l'onorego FENU se poi può far pervenire magari sulla mail istituzionale della Camera a lui eventuali proposte emendative e comunque grazie anche per la volontà volevo solo ricordare che abbiamo chiarito anche le ONLUS quindi avete ricevuto il documento sulle ONLUS quindi non dimentichiamo anche se grazie e anche per questa disponibilità effettuare un eventuale incontro con le forze politiche grazie mille arrivederci grazie preliminare che salvo obiezioni da parte i nostri ospiti la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati dispongo pertanto l'attivazione dell'impianto sono in collegamento Catalin Pintilie presidente della Federazione Nazionale di Progettazione di Costruzione Infrastrutture e CNL Domenico Passarella vicepresidente che saluto e ringrazio per aver accolto il nostro invito cedo subito la parola pregandoli di contenere la relazione in complessivi 5 minuti circa al fine di lasciare adeguato tempo eventuali domande e le fasi di replica prego dovrebbe accendere il microfono per favore buongiorno grazie gentilissimi signori onorevoli presidente e vicepresidenti della commissione finanze della Camera dei Deputati il mio intervento come presidente della Federazione Nazionale delle Progettazioni Costruzioni e Infrastrutture CNL intende essere semplice ma molto schietto considerata la seria e gravissima eh situazione generata in cui si trovano migliaia di imprenditori committenti e professionisti prima di tutto prendo atto che l'attuale governo nonostante sia intervenuto otto volte senza riuscire a risolvere il vero problema il problema non è l'aliquota quantomeno la libera circolazione dei credit sono state invocate le truffe per bloccare incentivi nell'edilizia e il così buco di bilancio non c'è viene smentito rigorosamente dai fatti e dimostrato dai comunicati del Ministero dell'Economia e Finanze con i comunicati stampa 34 e 42 del marzo 2023 dove viene dichiarato che a beneficio dei incentivi fiscali dei bonus sono stati ammessi a detrazione circa 40 miliardi viene dichiarato pure che c'è un extra gettito di quasi 69 miliardi dovuto ai incentivi quindi non c'è un buco di bilancio c'è anche l'audizione del generale comandante della Guardia dei Finanze dove dichiara che le truffe sul super bonus sono sotto la sole fisiologica la verità è che lo Stato ha violato palesemente il legittimo affidamento stiamo stati offesi da un ministro che ha definito i cittadini dei drogati e illusi solo per aver rispettato una legge dello Stato vi invitiamo come federazione a riflettere e intervenire positivamente affinché si esca dall'impasso in cui siamo per evitare ulteriori fallimenti e gesti estremi mossi dalla disperazione in cui sono stati letteralmente gettati i cittadini i numeri dei soggetti coinvolti sono ben documentati nella nostra documentazione che è stata consegnata ho l'impressione che manchi in questo momento la consapevolezza da parte del governo vi invito a rispettare le promesse e i pati fatti in campagna elettorale grazie grazie chiedo se ci sono interventi dei commissari non mi pare allora ringrazio il presidente della federazione nazionale delle progettazioni di costruzione di infrastrutture CNL Catani in Pintilie grazie mille per la sua testimonianza e la saluto grazie grazie sintetico la ringrazio arrivederci grazie allora presidente onorevoli deputati abbiamo presentato un documento stamani che è un documento che è l'estrapolazione di un lavoro fatto a quattro mani con il dottor Zanetti consigliere del ministro Giorgetti con il quale dopo un incontro il 12 di luglio al MEF abbiamo predisposto un documento che era quello che doveva rientrare nel cosiddetto decreto asset 1904 del quale poi non si è vista la luce per cui chiediamo in nove punti alcune situazioni uno è l'invio delle scadenze dei termini del sostenimento della spesa sia per le uni familiari che per i condomini al 31 marzo 2024 purché i condomini abbiano eseguito al 31-12-2023 almeno il 60% dei lavori mediante la realizzazione di un SAL chiediamo in più una serie di moratorie per le imprese e per i cittadini che hanno usufruito e per i professionisti che hanno usufruito degli incentivi fiscali e danno crediti gecenti sui propri cassetti a partire già dal 2022 visto l'incaglio dei crediti e nello specifico che venga prorogata la scadenza del documento della regolarità contributiva al 31-12-2024 che non venga considerata la sopravvenienza attiva per i crediti gecenti sul cassetto fiscale del 10% ai fini del calcolo delle imposte che per le imprese professionistiche alla fine dell'anno del 2023 hanno crediti gecenti in ragione di un 20% del volume del fatturato possa essere compensato anche il meccanismo possa essere compensato il debito fiscale anche in presenza di un avviso di accertamento che vengano sospesi con tutti gli atti giudiziali che sono in corso a seguito dei contenziosi per mancati pagamenti sempre per le imprese per i professionisti e per i committenti che hanno crediti gecenti sui cassetti fiscali e che a seguito della mancata monetizzazione non hanno potuto onorare gli impegni vengono sospese tutte le azioni giudiziarie che per i cittadini che hanno acquistato immobili e che non hanno potuto prendere la residenza nel periodo dei 30 mesi venga prorogata per ulteriori sei mesi e comunque entro la fine del entro la fine dell'ultimo da fine dei lavori ulteriori sei mesi per entrare in possesso della residenza per i committenti che hanno sostenuto la spesa i cui incentivi degli incentivi edilizi che intendevano esercitare l'opzione per lo sconto in fattura di consentire a questi soggetti quindi ai cittadini la possibilità di cedere anche la sola annualità per i cittadini che non potranno visto e considerata quale è la situazione entro il 16 di marzo provvedere alla cessione del credito per le spese sostenute al 31-12-2023 provvedere alla possibilità di soffrire della remissione in bonus anche al 31-12-2024 anche verso soggetti privati in deroga a quella che è la legge 38-2023 che è la conversione del decreto 11 con il pagamento dell'F24 di una sola volta della sanzione di 250 euro dichiarire in via definitiva che è permesso alle società enti economici non rientranti nell'elenco dell'Istat della 196 del 2009 quindi a tutte le società partecipate o controllate dal pubblico di poter acquistare crediti fiscali perché ancora oggi c'è questo problema di questi crediti fiscali incagliati la legge di bilancio all'articolo 67 agli articoli 67 e 68 ha previsto il pagamento il pagamento della plusvalenza sulla cessione dei beni della seconda casa chiediamo che venga che venga inserita la possibilità che in casi estremi di estrema necessità per i cittadini che intendono vendere la seconda casa non sia applicata questa sopravvenienza attiva nella legge di bilancio dell'articolo 1 comma 88 che modifica l'articolo 25 del decreto legge 31 maggio 78 ne chiediamo l'abrogazione di tale comma e chiediamo l'abrogazione dei commi della legge di bilancio 86 e 87 che prevedono che l'agenzia dell'entrata possa fare le verifiche per le mancate adeguamenti catastali all'articolo 3 che è il punto importante che era stato ampiamente discusso col ministro Giuggetti che aveva aderito a questa proposta e anche il dottor Zanetti che ha seguito tutto il tavolo tecnico il rilascio di una garanzia pubblica a favore dell'intermediario finanziario che acquisti i crediti fiscali di cui è commi 1 e 2 dell'articolo 121 convertito con modificazione in legge del TL34 convertito in legge 77 con finalità di vendita a terze parti sulla base di accordi appositamente stipulati da quest'ultimo da parte di banche intermediari finanziari scritta all'albo previsto l'articolo 106 del testo unico di società appartenente a un gruppo bancario scritto all'albo di quegli articoli 64 delle leggi di materia bancaria e creditizia anche qualora l'acquisto del credito o d'imposta sia effettuato oltre alla capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca degli intermediari finanziari delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'erario e che preveda la stipula di accordi di rivendita e controparte terze conseguentemente in coerenza con le disposizioni della banca d'italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti d'imposta di quello del decreto 19 maggio del 2020 le esposizioni rinvenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e nell'ambito del merito standardizzato le banche e gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano le suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dallo 0% è inutile continuare a chiedere intanto è scritto l'acquisto da parte delle partecipate pubbliche da parte dei crediti fiscali ciò che chiediamo esplicitamente è la modifica dell'articolo 321 quello che modifica il sequestro penale dei crediti fiscali in mani accessionari che nulla hanno a che vedere dopo aver eseguito la diligenza professionale la fissazione di un tasso di sconto dei crediti fiscali da parte delle banche mediante una norma di legge che impedisca l'accellerata continua esasperazione da parte di taluni soggetti che in questo momento stanno acquistando crediti fiscali a dei tassi che va oltre quello consentito dal 644 del codice penale la distribuzione del credito d'imposta negli anni per evitare che le casse dello Stato soffrano ulteriormente quindi a sostegno dello Stato di trasformare i crediti quadrennali di fatto in crediti quinquennali in modo da appesantire meno la compensazione per le casse dello Stato e di consentire ai possessori di crediti fiscali al di là del timing in cui sono stati creati i crediti fiscali la possibilità di spostare fino a 10 anni la compensazione dei propri crediti il diritto al frazionamento del credito è una proposta di legge che è stata presentata dall'onorevole De Bertoldi nella 18esima legislatura e il miglioramento soprattutto della possibilità della piattaforma di interscambio dell'agenzia delle entrate in modo tale che i documenti previsti dal DL11 poi convertiti in legge numero 38 siano caricati direttamente sul portale dell'agenzia delle entrate affinché l'agenzia mediante un meccanismo di controllo rilasci un credito certificato certo ed esigibile in modo tale che non ci siano assolutamente contestazioni successive come federazione stiamo lavorando a un progetto da sottoporvi che vi sottoporremo in altre occasioni in un'altra occasione possibilmente per evitare questa un miliare di contenziosi generati a seguito della sospensione del blocco delle cessioni dei crediti che hanno comportato la sospensione dei lavori per legittimare quello che è il legittimo affidamento dello Stato ed impedire che si perda quella che è la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato grazie presidente grazie chiedo se ci sono ulteriori interventi non mi pare ringrazio allora anche il dottor Passarella grazie mille per la vostra partecipazione grazie a voi grazie a tutti 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 e la dottoressa Anna Danzi, vice direttore Finco, che saluto e ringrazio per aver raccolto il nostro invito. Cedo loro subito la parola pregandoli di contenere la loro relazione in complessivi 5 minuti circa, al fine di lasciare adeguato tempo le eventuali domande e le fasi di replica. Prego allora il dottor Gimelli, immagino, o la dottoressa Danzi, prego. Grazie Presidente, permette comincio io. Finco, come la Commissione, immagino, sappia, è una federazione industriale del settore delle costruzioni che ha un margine di rappresentanza ampio come lei stessa ha avuto modo di evidenziare dalla lettura dell'acronimo che rappresenta la nostra federazione. È una federazione che rappresenta associazioni nazionali di categoria, al momento abbiamo 40 associazioni nazionali di categoria, del settore delle costruzioni, vuol dire 140 mila addetti, 30 miliardi di fatturati. È un po' tutto l'arco delle costruzioni e di nostro stesso interesse, dal lato soprattutto delle produzioni e delle lavorazioni specialistiche e super specialistiche. Quindi noi siamo forzatamente interessati a tutto ciò che è ristrutturazione edilizia, all'efficienza energetica soprattutto, ma anche a molti altri temi. Con riferimento in maniera più puntuale a ciò in cui si discute oggi, e prima di cedere la parola al direttore Gimelli, che più ampiamente affronterà uno degli articoli in particolare del decreto legge in conversione, che è l'articolo 3, lasciatemi soltanto fare due piccole chiose. Allora la prima, ci rivolgiamo a voi come commissione di riferimento per tutto ciò che ha un impatto finanziario, è la necessità che i bonus, i vari bonus fiscali di agevolazioni, abbiano un orizzonte temporale lungo. Non possiamo continuare ad avere regole che cambiano annualmente, e che magari cambiano anche in corso d'opera per le programmazioni delle nostre attività, di tutte le attività imprenditoriali e industriali che stanno alla base di questa attività, è assolutamente benedibile. Quindi ciò che auspichiamo è che ci sia un set di agevolazioni, perché ce lo chiede anche l'Europa, la famosa direttiva sull'efficienza energetica degli edifici, sta andando verso la sua chiusura, e ci chiede strettamente di raggiungere degli obiettivi vincolanti. Quindi questo set di aiuti è importante, ma a noi serve stabilizzazione per poter programmare i lavori. E ci serve anche un sistema bancario disponibile. In questo momento tutta la partita dei crediti incagliati è ancora rimasto in sospeso, il sistema bancario non è molto sensibile alle stanze imprenditoriali. Quindi anche su questo richiamiamo fortemente la vostra attenzione, perché anche le banche collaborino a questa attività che è di crescita culturale, economica e ambientale per il Paese. Ci ho detto, mi taccio e passo la parola al direttore di Unicumi, Pietro Gimelli. Grazie. Grazie. Prego allora al vicepresidente, mi pare, al dottor Gimelli comunque. Grazie mille. Abbiamo perso la sua voce, dottor Gimelli. Mi sentite? Mi sentite? Non la sentiamo. Poco, sentiamo pochissimo. Ora mi sentite? Lontanissimo. Se forse deve avvicinare qualche microfono o qualcosa. No. Ora mi sentite? Eh, se si avvicina un po' meglio. Forse così mi sentite meglio? Sì, lontano ma meglio, sì. Provo a stare più vicino possibile. Ecco, così già meglio, grazie. Perfetto. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per il vostro ascolto e la vostra attenzione. Eh, sarò al di là di sottoscrivere quello che prega sul tema più generale che spero ci ritroveremo per ragionare di bonus e di riordino dei bonus semplificandoli e dandogli un respiro più ampio e più certo. Eh, nel merito della discussione di oggi, eh, io volevo sollevare la vostra attenzione sull'appunto sull'articolo 3 che è quello che eh riguarda i bonus cosiddetto disabili, cioè il 75%. Eh, intanto ci tengo a eh dirvi eh e ci sono le evidenze che le imprese che noi rappresentiamo all'inizio dell'anno hanno sollecitato eh il governo per fare chiarezza e perché erano i primi eh sull'impianto compressivo che era stato dato a questo tipo di dispositivo soprattutto perché eh la sua applicazione non deriva tanto dal testo della norma quanto da delle interpretazioni dell'agenzia dell'entrata. Chiedo scusa un attimo dottor Gimelli perché ancora va e viene l'audio. Non è che ha le cuffie coperte o qualche o scollegate o collegate male. Se può controllare. Perché se sta così proprio non la sentiamo. Poi abbiamo dei momenti in cui la sentiamo molto bene e altri. Adesso riprovo così come mi sentite. Così discretamente ecco se stiamo. Provo? Sì scusi. La dottoressa Danzi mi fa un segnale se vede che mi sentite male. Chiedo a lei di segnalarmelo col viso. Allora eh cerco di essere brevissimo ehm nel merito all'articolo tre ehm quindi bonus disabili. Le nostre imprese all'inizio di questa partita avevano eh sollevato il tema e avevano trovato alcune incongruenze nell'applicazione e nonostante questo l'agenzia delle entrate ha continuato a confermare il tipo di applicazione che è stata data quest'anno eh e noi ci siamo visti costretti a utilizzare questo bonus perché era massivamente utilizzato da operatori esteri e non potevamo lasciare che il mercato fosse eh in mano eh a persone che poi non pagano nemmeno le tasse in Italia. Eh ci sono due questioni di fondo. Una è il grande danno che viene fatto ogni volta che un provvedimento viene cambiato in corsa perché questo significa due cose. Uno eh che le nostre imprese hanno programmato investimenti e approcci al mercato e si ritrovano d'improvviso eh a dover cancellare tutti gli investimenti e la programmazione eh due che anche come dire il rapporto di fiducia che c'è fra le nostre imprese e i committenti e i clienti viene meno perché sempre meno si può come dire proporre soluzioni perché c'è l'ansia nella committenza che queste soluzioni vengano smentite in corsa. Quindi eh se questo decreto avesse previsto uno scivolo temporale eh un po' più eh adeguato probabilmente avrebbe creato alle nostre aziende e ai committenti meno problemi. Il secondo invece più importante ancora è che con questo decreto che giustamente interviene su un dispositivo che era mal utilizzato eh e mal interpretato però nell'intervenire si è buttato via il bambino con l'acqua sporca. Nel senso che eh se eh ha un suo perché e una sua ragione immaginare che vi siano delle agevolazioni per un progetto complessivo di accessibilità delle abitazioni da parte dei disabili non si vede perché in questo progetto complessivo di accessibilità non debbano essere compresi anche i serramenti di bagno. Noi capiamo che eh non si possa eh immaginare che il singolo intervento eh abbia diritto e accesso alle detrazioni eh perché questo rischia come dire di poi produrre interventi eh che che non che non aiutano eh nella fattispecie il disabile perché se non può entrare in casa è inutile che abbia la finestra che si può aprire. Capiamo meno perché nell'intervenire un po' a colpi di accetta eh non si sia collegato la possibilità di questi interventi alla presenza di un progetto complessivo di accessibilità asseverato. Se si predispone uno scivolo per far entrare la persona disabile, se si ripensano e rifanno le porte in modo che tutti gli ambienti siano accessibili eh non si capisce perché a quel punto non possano anche aprire la finestra o andare in bagno. E quindi la nostra richiesta sarebbe quella come dire di immaginare uno scivolo temporale diverso ma è sicuramente quella di richiedervi di ripensare al fatto che dentro un quadro di progetto complessivo di accessibilità non si capisce perché i prodotti come inserimento in bagno debbano essere esclusi eh di fatto togliendo come dire la possibilità a chi vuole attrezzare la propria casa per una per un accesso libero per le dalle persone per le persone disabili non non debba poterlo fare nella sua competenza. Mi fermo qua perché vi ho già fatto perdere tempo con il microfono che non funzionava. No non si preoccupi nessuna perdita di tempo e non vedo richieste di intervento da parte dei colleghi quindi ringrazio eh per le vostre osservazioni eh ringrazio quindi la dottoressa Danzi e il dottor Gimelli e ringrazio quindi anche tutta Finco. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.